Ben trovati in questo nuovo video o benvenuti su questo canale se è la prima volta che lo visitate io mi chiamo Luca e sono un fotografo di paesaggi che si occupa su questo canale di argomenti inerenti alla fotografia per quanto riguarda lo scatto, l'editing, la stampa ma mi occupo anche di video recensioni di materiale fotografico quindi comunque se vi piacciono questi argomenti vi consiglio di iscrivervi e anche di attivare le notifiche se vi va in modo da non perdervi nessun video che uscirà in futuro oggi andrò a parlare di filtri fotografici, un argomento che mi avete richiesto veramente in tantissimi sotto l'ultima storia che ho pubblicato sulla mia pagina di Instagram e dunque oggi vi farò vedere i tipi di filtri che utilizzo e in sostanza andrò a fare una panoramica generale sull'utilizzo e sui tipi di filtri presenti nel mondo della fotografia prima di cominciare però vi voglio anche dire che io utilizzo solo filtri Nisi Italia della quale sono anche diventato orgogliosamente fotografo ufficiale e dunque posso offrirvi un codice sconto che vi lascio qui in sovraimpressione ma anche in descrizione per andare a risparmiare qualche soldino ma acquistare dei filtri veramente di altissima qualità detto ciò adesso andiamo a vedere una panoramica dei filtri presenti all'interno del mondo fotografico e poi ovviamente vi farò vedere anche quelli che utilizzo io per le mie lunghe esposizioni fondamentalmente i filtri si possono andare a dividere in base a due criteri diversi un primo criterio che riguarda l'installazione dei filtri sulle nostre ottiche quindi del metodo con cui si possono andare a montare sulle ottiche e un secondo criterio che invece riguarda proprio il tipo di filtro e ovviamente il suo scopo per quanto riguarda il tipo di installazione possiamo vedere da un lato i filtri a vite e dall'altro invece i filtri a lastra sono i due tipi più diffusi e ogni tipo ha i suoi pro e i suoi contro per quanto riguarda i filtri a vite possiamo subito notare che sono dei pezzi circolari o di vetro o di resina che si vanno ad avvitare direttamente sull'ottica del nostro obiettivo e ovviamente hanno il pro di essere piccoli, compatti, leggeri, più economici anche dei filtri a lastra anche a parità di qualità di vetro ottico ad esempio infatti anche la Nisi ha vetri ottici sia circolari che a lastra praticamente identici però ovviamente rivolti a un utilizzo diverso o meglio a un'applicazione diversa sulla lente stessa l'unico problema che secondo me in base alla mia esperienza hanno i filtri a vite è che sono poco versatili o meglio se ne può montare uno solo per volta sul nostro ultragrandangolo sui tele è già un discorso diverso ma se voglio fare una super lunga esposizione non posso andare a montare più di un filtro ND su a mia ottica per volta in quanto più filtri andranno a creare una vignettatura molto pesante o addirittura potrebbero anche entrare nel frame della mia fotografia proprio fisicamente dall'altra parte invece abbiamo i filtri a lastra ossia delle vere e proprie lastre anche qui di vetro o di resina in base alla loro qualità che vanno sistemate sulle nostre ottiche mediante l'utilizzo di un sistema come ad esempio il Nisi V6 che prevede un anello adattatore e un porta filtri dotato di slitte che vadano a bloccare saldamente il filtro ma che gli permettono anche di scorrere verticalmente per essere inserito, rimosso o aggiustato in verticale gli svantaggi dei filtri a lastra è che sono più grandi, sono più pesanti ingombrano di più all'interno dello zaino del fotografo e costano un pochino di più tuttavia tutti questi difetti vengono ripagati dalla versatilità che questo sistema offre quando si è sul campo infatti potremo andare a usare molteplici filtri contemporaneamente tra polarizzatore, GND e filtri ND per avere dei risultati finali veramente incredibili passando invece al secondo criterio di suddivisione e categorizzazione dei filtri possiamo trovare vari filtri in funzione di quello che dobbiamo andare a fare prima di tutto infatti nel mio corredo è presente un filtro polarizzatore in questo caso è un filtro CPL Landscape sempre di casa Nisi e con questo filtro riesco andare a eliminare i riflessi dalle superfici non metalliche come l'acqua, le foglie, gli scogli questo ovviamente mi permette di andare a visualizzare perfettamente il fondale ad esempio marino oppure anche il fondale di una cascata o ancora mi permette di andare a eliminare i riflessi dalle foglie, dall'erba, dagli scogli tirando fuori veramente tutti quanti i colori della scena e rendendo la fotografia finale molto più bella e interessante da vedere insieme poi al filtro polarizzatore io vado ad utilizzare molto spesso un filtro GND in questo caso è un GND medium da 3 stop sempre di casa Nisi e questo filtro ha la funzione di andare a scurire una certa porzione di foto che io stesso vado a scegliere solitamente è il cielo ne esistono di diversi tipi in base al tipo di sfumatura che vogliamo avere nel filtro vi invito ad andare a vedere il sito per capire meglio di cosa sto parlando sappiate che esistono dei filtri hard che sono completamente scuri da inizio a metà filtro esistono dei filtri soft che invece sono completamente sfumati il medium come dice il nome stesso è una via di mezzo tra i due ma poi esistono anche i filtri edge, i filtri reverse e molti altri quindi insomma ce ne sono davvero tantissimi che si adattano alle varie situazioni che un fotografo di paesaggi si può trovare a fronteggiare quando è sul campo infine l'ultima tipologia di filtro che vado ad utilizzare è il filtro ND i filtri ND ovvero neutral density o densità neutra hanno lo scopo di andare a bloccare una certa quantità di luce in base alla loro gradazione fondamentalmente il mio preferito è il 6 stop che mi permette comunque all'ora del tramonto in abbinamento anche al mio polarizzatore di arrivare a scattare anche 4 minuti di lunga esposizione che è davvero un tempo considerevole che permette di avere un movimento molto molto interessante specie delle nuvole che solitamente si muovono un pochino più lentamente rispetto invece al mare dove bastano anche 30 secondi per avere già quel bellissimo effetto seta specie se c'è il mare mosso ovviamente come vi ho detto esistono vari tipi di filtri ND o meglio varie gradazioni di filtri ND che partono da uno stop e arrivano fino a 20 se non ricordo male quindi comunque delle cifre incredibili non esiste un filtro perfetto esistono solamente filtri più adatti a certe situazioni e filtri invece più adatti ad altre situazioni per quanto riguarda i periodi del giorno in cui scatto io trovo che i 6 stop o al limite l'8 stop se volete avere qualcosa di più scuro siano gli ideali per avere comunque dei tempi considerevoli ma sempre umani e facilmente gestibili se invece scattate durante il giorno come a mezzogiorno e volete avere 2 minuti di esposizione beh in quel caso vi servirà come minimo un ND1000 che va a bloccare 10 stop quindi in sostanza non si può dire in assoluto che il 6 stop sia migliore del 1000 dipende solamente quando dovete scattare e cosa volete fare niente di più niente di meno come vedete quindi questi filtri sono un pochino più grandi e ingombranti rispetto ai filtri a vite però veramente sono un sistema molto divertente da utilizzare che dà grandi soddisfazioni tuttavia sarebbe un sistema totalmente inutile se non ci fosse appunto il porta filtri ovvero quel sistema che dotato di slitte permette di andare a mettere i filtri di farli scorrere, di bloccarli e di metterli nelle posizioni che ci servono in questo caso ho un V6 in mano ho anche il V5 Pro che è contenuto dentro questa custodia ho avuto anche il V5 insomma li ho avuti tutti i più recenti e devo dire che sono sistemi veramente ben fatti, ben realizzati vi lascio anche il link qui in alto a destra per vedere la recensione che ho fatto sempre del V6 che tra l'altro è uscita da poco in modo che possiate avere un quadro generale più completo di quello che è il sistema di filtri a lastra di Nisi Italia quindi comunque che dire se volete approcciarvi al mondo dei filtri se siete all'inizio io vi consiglio di cominciare con dei filtri a vite buoni però in modo da avere pochissime dominanti e comunque da mantenere la nitidezza delle vostre lenti vi consiglio i filtri a vite in quanto comunque vi ripeto sono un pochino più economici e dunque è sempre meglio investire gradualmente i propri soldi per capire se effettivamente le lunghe esposizioni sono il tipo di fotografia al quale ci vogliamo dedicare nel momento in cui invece mai decidete di fare più sul serio quindi avete capito che questo mondo fa per voi vi consiglio per iniziare sicuramente il Nisi V6 o se volete risparmiare qualcosina il Nisi V5 Pro che comunque è veramente un gran bel holder l'ho tenuto per un anno e mezzo e mi sono veramente divertito tanto come filtro CPL io vi consiglio il Landscape non perché il Pro sia scarso faccia schifo anche quello l'ho usato per tre anni mi sono sempre trovato bene però il Landscape è un filo più potente e ho tenuto quello più recente quindi sicuramente vi durerà di più è un pochino più longevo e infine poi per quanto riguarda invece i filtri Alastra vi consiglio sicuramente un ND64 vi ho già spiegato le ragioni specie se amate scattare all'alba al tramonto trovo che sia quello più indicato e anche più facile da gestire pur avendo risultati veramente eccezionali e infine invece come filtro GND unico per iniziare io vi consiglio un bel medium da 3 stop sicuramente con questo vi troverete benissimo e poi ovviamente avete sempre tempo per poterlo provare e ovviamente per capire anche quale fa più al caso vostro questo lo trovo veramente molto utile per scattare anche al mare in quanto ha una bellissima sfumatura che permette di andare a scurire bene il cielo però senza andare a scurire eventuali promontori o paesini come ad esempio Tellaro quindi insomma comunque questa è la panoramica dei miei filtri fotografici fatemi sapere se avete dei dubbi, delle domande, delle richieste se il video vi è piaciuto condividetelo mi raccomando con tutti quanti i vostri amici invitateli anche loro a iscriversi a questo canale e noi ci vediamo prossimamente sempre qui su LM Fine Art con tantissimi nuovi contenuti a presto